Buongiorno a tutti, allora filpettina da brrrr che freddo che fa perché dobbiamo parlare di queste olimpiadi, queste olimpiadi che proseguono, ormai sono quasi alla fine però io piano piano recupero tutte le gare e questa volta vi parlerò della combinata maschile cioè la gara di discesa libera più la gara di slalom speciale, quindi discesa libera non esageratamente lunga e poi dopo nella stessa giornata la gara di slalom speciale, si sommano i tempi della discesa libera più i tempi dello slalom speciale, chi fa il tempo più corto vince, a differenza di quello che succede quando fanno prima maschile di slalom gigante e poi seconda maschile di slalom gigante, sapete benissimo che in quei casi lì nella seconda maschile si parte dal trentesimo fino al primo, in questo caso invece non è così, chi vince, chi ha il tempo più basso nella discesa libera parte per primo perché solitamente chi è primo nella discesa libera è un discesista, non è uno slalomista, se facessero iniziare per primi gli slalomisti che magari sono finiti dietro in discesa libera già sono più bravi dei discesisti, se in più gli metti anche la pista bella liscia limpida perfetta ciao e allora in questo caso preferiscono far partire prima quello più veloce, quello che ha vinto la, tra virgolette, la discesa libera e poi far scendere tutti gli altri che gli sono alle spalle, anche per renderla cara un attimino più viva. Comunque discesa libera maschile valida per la combinata e bisogna dire che dopo la gara di velocità abbiamo, come era prevedibile, childe al comando ma con soli due centesimi su Crawford che comunque è un discesista anche lui e 42 centesimi su Seeger che anche lui è più discesista che slalomista. Purtroppo il vantaggio sui due slalomisti come Strolls 75 centesimi e Swartz 95 centesimi non è propriamente elevatissimo anche perché gli slalomisti di solito riescono ad andare un secondo e mezzo, due secondi ai discesisti, a meno che uno non è proprio un super polivalente ma solitamente di polivalenti che sono fortissimi in una disciplina e bravi nell'altra è difficile, solitamente o sono discreti in tutte e due, discreti bravini, cioè discesa arrivi tra i primi dieci, in slalom arrivi tra i primi dieci, ecco per intenderci, raramente riesci ad arrivare tra i primi cinque. Oppure c'è quello che in slalom sta nei primi cinque sempre in discesa, diciamo che magari fa il super G e la discesa libera ne fa una ogni morte di papo, diciamo che di Schifrin ce ne sono, non ce ne sono ecco per intenderci, che è bravissima in discesa libera, è bravissima in slalom speciale, è bravissima in slalom, è bravissima in super G. Purtroppo quest'anno le Olimpiadi della Schifrin ce ne lasciano molto a desiderare. Per quanto riguarda gli sciatori italiani avevamo solo il nostro Inerofer che si è difeso bene in discesa libera, è settimo con un ritardo di un secondo e 0,7, purtroppo non è uno slalomista quindi difficilmente potrà ambire a una medaglia, però almeno almeno restare nei dieci vedremo. Con quella classifica dopo la gara di discesa valida per la combinata vede Kilde al primo posto, Crawford al secondo, Sieger al terzo, Stronz che a questo punto è diciamo il favorito per la medaglia, davanti a Sfars altro favorito per la medaglia, Borissier anche lui potrebbe essere favorito per la medaglia perché sono tre che sugli in slalom se la cavano mica da ridere, Inerofer settimo, Thompson ottavo, Zabristan che è comunque un discreto slalomista potrebbe dire la sua e Aser che è decimo. Andiamo a vedere come è andato lo slalom speciale, valido appunto per la combinata, come vi dicevo il primo a scendere è l'atleta al comando cioè Kilde, vediamo quale sarà il suo tempo da battere visto che è il migliore nella discesa libera quindi è lui a scendere per primo, è lui che aveva il tempo migliore, è lui che è quello che avrà il tempo da battere, il suo tempo finale è 2, 32 e 0,2, vediamo chi riesce a stare davanti. Per il momento il secondo e il terzo non ci riescono ci prova Strolls quarto nella discesa a 75 centesimi di stacco da Kilde e signori miei come avevo previsto Strolls sfrutta l'occasione, si prende il primo posto con 59 centesimi di vantaggio quindi calcolando ha fatto, gli ha dato un secondo il 34, quello che dicevano gli slalomisti, il secondo e mezzo più o meno glielo danno quindi per ora Strolls è primo con 59 centesimi, vedremo se basteranno per la medaglia e soprattutto se sarà una medaglia l'oro come il babbo a Calgari perché hanno insistito sul fatto che il papà a Calgari vinse una medaglia proprio in combinata, papà Strolls. I due slalomisti cioè Murisier e Sfars non riescono tutte e due ad andare a medaglia quindi se non restano dietro, tocca al nostro innerhofer, distacco di 32 centesimi dallo sciatore austriaco sarà durissima anche perché non è uno slalomista e infatti purtroppo è ultimo con ben 4.37 di ritardo tocca a Zabristan nono dopo la discesa e ritardo di 67 centesimi purtroppo si è buttato giù modello la va o la spacca e finisce fuori dopo poche porte. Per ora sembrerebbe che l'oro e l'argento siano sicuri il bronzo Crawford visto che ha già preso una medaglia di legno si è messo in disparta ha detto aspetta a mettermi lì sul podio, tocca a Pinturo undicesimo dopo la prima masce e distacco di 1,17 dallo sciatore austriaco, si butta giù a tutte al primo intermedio aveva già recuperato 10 centesimi ma purtroppo deve dare addio ai sogni di gloria perché inforca e se ne va proprio letteralmente è finito in mezzo a tutti i pali perché era andato giù a tutta e ha preso un ribalsino e poi tu 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 li ha fatti fuori tutti, li ha presi tutti letteralmente tocca a Jokker sedicesimo dopo la discesa e 1,93 di ritardo anche lui si butta tutta, primo intermedio recupera 12 centesimi al secondo quando proprio ha inforcato ne aveva recuperati 9 era lì a 9 secondi quindi più o meno aveva mantenuto quel vantaggino che aveva recuperato però ha inforcato pienamente quindi niente da fare tocca a Meillard, diciassettesimo dopo la discesa e ritardo di 2,04 dopo un primo intermedio in cui aveva recuperato ben 27 centesimi va a inforcare in pieno, c'erano le doppie, le ha prese secche e stop poi ci sono state le discese anche degli altri ma praticamente quasi tutti hanno inforcato a metà gara o giù di lì non sono stato a scrivervelo perché oramai avevano anche distacchi mica da ridere quindi confermiamo la classifica finale della combinata maschile che vede Strolls dopo 34 anni dalla vittoria del Babbo in combinata a Calgari che si prende la medaglia d'oro in combinata al secondo posto un Kilde che non se l'aspettava sicuramente infatti era lì che se la rideva alla fine della prima maschile come a dire tanto io conto poco cioè ho vinto la discesa libera eccetera eccetera che conta fino a un certo punto poi scenderò e vediamo cosa succede e quindi un bel argento che sicuramente non si aspettava e Crawford terzo bronzo quindi in questa Olimpiade per ora Crawford un quarto posto un terzo posto, bel bronzo Morisier quarto per soli 18 centesimi quinto Sfalz sesto Zollos l'israeliano Zollos settimo Aser ottavo Thompson nonno Seeger decimo il nostro Innerhofer bene ragazzoli anche questa ve l'ho raccontata spero che qualcuno segua i miei racconti simpatici e sempre allegri di questa Olimpiade di queste gare di sci e ci vediamo naturalmente ai prossimi video ciao 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 ciao